Per quanto riguarda la sanità non mi convince nulla, perché la Corte rileva che noi abbiamo applicato con ritardo il decreto Lorenzin. Intanto tutti i consiglieri regionali di opposizione, per esempio i vicompresi 5 Stelle, ci chiedono di non applicare Lorenzin, quindi non si può utilizzare come arma la relazione della Corte e poi allo stesso tempo dire non fai quanto chiede la Corte, per capire le contraddizioni interne e lo sciagallaggio politico sul punto. Ma poi perché sulla sanità noi siamo stati riconosciuti come la prima regione in Italia ad averla applicato, Per quanto invece riguarda il bilancio e quindi l'extrasanità, anche qui bisogna essere sinceri. Se io andassi con la stessa velocità che chiede la Corte, io dovrei azzerare tutti i capitoli per quanto riguarda i disabili, non autosufficienti, il sociale, i trasporti pendolari, gli studenti e i lavoratori. Vogliamo fare questo? O al contrario vogliamo prenderci un tempo, forse un po' più lungo? Intanto perché parliamo di debiti passati e non di questo governo regionale. Molto cospicuamente formati nel settegno 2000-2007. Alla luce di questa relazione farete qualcosa comunque in generale per rispondere a questi rilievi? Noi andremo con i nostri tempi che garantiscano la trasparenza che nessuno nei vent'anni precedenti ha voluto chiarire sul bilancio, ma che allo stesso tempo garantiscono il giusto e corretto e la corretta erogazione dei servizi per il sociale e per i trasporti. Non un passo indietro per quanto mi riguarda, se qualcun altro invece vuole venire a provare da un lato ad azzerare i capitoli sul trasporto al sociale e dall'altro a scrivere una montagna di debiti del passato da ammortizzare togliendo tutti i servizi alla gente, si accomodi, non sono io quella persona.